Ah ok, io sono riuscita, sono uscita adesso e sono subito, eh non bene ancora, tutto che mi fa male, ancora non tanto bene, è tutto vicino, niente, è arrivata a me, ok, vai, sempre, 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 sempre. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.